Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Ebbene ci siamo, da domani partiranno i pagamenti delle pensioni anticipate di ottobre 2021 in posta. Vediamo tutti i dettagli e le date insieme in questo video. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Sono in arrivo dunque le pensioni di ottobre che saranno pagate dall'IMS il primo giorno del mese. Per coloro però che riscuotono le pensioni in posta è prevista, come abbiamo già spiegato più volte, l'anticipazione del pagamento, proprio come è avvenuto negli scorsi mesi, per evitare gli assembramenti negli uffici postali. Per coloro dunque che riscuotono la pensione alle poste è prevista l'anticipazione del pagamento che rispetto alle normali scadenze sarà distribuito e scaglionato su più giorni da lunedì 27 settembre al primo ottobre. Dunque nel caso di riscossione allo sportello, poste italiane, come negli scorsi mesi, ha scaglionato le presenze dei pensionati secondo un calendario diviso per cognomi. Domani, dunque lunedì 27 settembre, ritireranno la pensione i pensionati con le lettere dalla A alla C, lettere dalla D alla G martedì 28 settembre, lettere dalla H alla M mercoledì 29 settembre, lettere dalla N alla R giovedì 30 settembre, infine lettere dalla S alla Z venerdì 1 ottobre. Dunque, come dicevamo, il pagamento partirà il 27 settembre domani e si concluderà venerdì 1 ottobre. Ricordiamo infine che trattandosi esclusivamente di un'anticipazione del pagamento, il diritto al rato della pensione si matura comunque il primo giorno bancabile del mese. Consigliamo infine di verificare il cedolino della pensione di ottobre 2021 per vedere se siano presenti eventuali rimborsi conguagli o trattenute. E anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione e al prossimo video. Grazie per la visione!